L'attrice, ospite di Domenica in, Rai 1, nella puntata del 13 marzo, protagonista di una pessima gaff in diretta. Brutto scivolone di Amanda Lira Domenica in. Nel corso dell'intervista molto frizzante concessa a Mara Venier, a un certo punto, l'attrice, dopo aver partorito una serie di battute pepate, è ulteriormente scivolata su una buccia di banana innescando immediatamente reazioni forti nei telespettatori che si sono riversati sui social per condannare le sue dimenticabili parole. Sembra una min, ta ucraina, si è lasciata sfuggire a un certo punto l'artista, commentando una clip mandata in onda sulla sua carriera. Di per se la battuta già è offensiva. Lo è ancor più alla luce della guerra scatenata da Vladimir Putin al paese ucraino. Nel momento in cui l'ospite ha pronunciato la pessima frase, la padrona di casa Venier non ha ben capito quel che è stato detto. Amanda, probabilmente essendosi subita resa conto del pasticcio, ha cambiato argomento e ha concluso l'intervista. La «zia», dopo la pausa pubblicitaria e dopo che Amanda già aveva lasciato lo studio, evidentemente messa al corrente dagli autori dello scivolone trasmesso in diretta e delle polemiche scatenatesi sui social, è esplosa contro la Lear, condannando le sue parole in modo netto e alzando i toni. Quando Amanda se ne è uscita con quella frase, battuta molto infelice, io ho detto subito, cosa hai detto, perché non avevo capito. Se avessi capito ha aggiunto con tono irato, alzando la voce, guardando la telecamera e rivolgendosi al pubblico a casa, avrei preso subito le distanze. Le prendo adesso, non è il momento per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, quindi stop alle polemiche, altrimenti rimandiamo il pezzettino in cui dico, cosa hai detto? Quindi ha concluso in modo perentorio e ancor più duro, se ne è uscita così, in modo istintivo, sapete com'è fatta. Questa è stata una battuta infelicissima e chiudiamola qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.